Dalla visitazione alla visitazione. A quattro anni dalla nascita, il mensile dell'osservatore romano Donne Chiesa Mondo, voluto da Benedetto XVI per dar voce e valorizzare la presenza femminile nella Chiesa, cambia formato e si arricchisce di pagine e collaborazioni, ma torna a riflettere sul tema del primo numero, l'incontro a Tamaria e Elisabetta. È l'icona del nostro progetto, scrive nell'editoriale la coordinatrice Lucetta Scaraffia, storica e giornalista, donne che portano alla luce ciò che altre donne hanno da dire o hanno detto e scritto. La nuova rivista, 40 pagine di piccolo formato invece che le quattro a paginone, è stata presentata questa settimana in Vaticano dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, dal direttore dell'osservatore romano Gian Maria Vianne e dalla sorella di Bose Elisa Zamboni, con la stessa coordinatrice. Cambia il formato per renderlo più leggibile, più agile, si può portare dietro, si può leggere a letto, mentre invece l'altro formato era molto bello ma un po' scomodo. Poi non cambia solo il formato, aumenta la paginazione, aggiungiamo una meditazione sulle sacre scritture fatte ad opera di donne e un'attenzione all'arte creata dalle donne. Soprattutto questo numero sancisce una collaborazione che abbiamo già iniziato del resto con le sorelle di Bose che ci danno un grandissimo aiuto come spunti, come idee e che si occupano di queste nuove rubriche. Ogni giorno la nostra preghiera è fatta di meditazione della parola e quindi anche le meditazioni che poi noi proponiamo al giornale nascono da questo riflettere, da questo leggere, meditare continuamente la parola nel nostro quotidiano. La nostra meditazione della parola è arricchita continuamente dall'essere messi di fronte ai fratelli che plasmano il nostro vissuto e che plasmano quindi anche la meditazione della parola. E lo stesso le sorelle per i fratelli. Quindi diventa sì una lettura della Bibbia delle donne ma di donne che vivono nella differenza arricchite dal confronto continuo e dal dialogo con i fratelli e le sorelle. Una sinergia che viene dall'ascolto della parola in primis ma dall'ascolto delle donne, sorelle e fratelli che vivono con noi. Ecco anche la riflessione sull'arte fa parte della nostra riflessione oggi come lo è stata ieri. Arte come espressione appunto di bellezza e di collaborazione delle donne e degli uomini alla creazione, al creato. Certamente è un'iniziativa diciamo molto meritevole di appoggio proprio perché può dare spazio anche al contributo che le donne hanno da portare. Il Papa Francesco l'ha sempre ribadito, ecco questa necessità di dare più spazio anche alla presenza femminile. Questa è una maniera concreta per rispondere a questo invito e a questa esortazione del Papa. I numeri danno ragione alla sfida delle riviste Donne Chiesa Mondo. 20.000 copie stampate, edizioni in sei lingue sul sito dell'Osservatore Romano è rilanciata in rete dall'inglese Catholic Woman Speak e in francese dalla V, settimanale di Le Monde. Il mensile, che esce il 2 di ogni mese legato al quotidiano, è pubblicato in spagnolo dal settimanale Vida Nueva. Perché le donne hanno molto da dire, ha concluso il Cardinal Parolin, dobbiamo ascoltarle. Ancora Lucetta Scaraffia. Le donne stanno crescendo all'interno della Chiesa, stanno sempre più pubblicando libri importanti di esigesi, di teologia da una parte e dall'altra stanno facendo sentire la loro voce nel leggere la situazione mondiale, quindi il ruolo della Chiesa oggi, in modo autonomo e creativo. Sono quattro anni importanti in cui abbiamo iniziato ad allargarci con molti rapporti di collaborazione che sono diventati poi rapporti stabili. Perché abbiamo allargato la redazione, che all'inizio era composta di due o tre persone, adesso è diventata di sei persone, di vari paesi del mondo e c'è anche una ebrea, Anna Foa. Quindi ci siamo allargati a altre religioni e a tutto il mondo.